Sì, anch'io, come ha detto Turano, sono molto contento di essere qua. Per me la partita della Lega Pro non è un passo indietro, anzi, sono contento di essere qua, perché secondo me è giusto che ogni giocatore vada a me almeno. A me non piace buttarmi a qualcosa che non so, a cosa vado incontro. Mentre qua so che insieme a questa società posso crescere, possiamo crescere tutti, e quindi ho deciso di partire da qua appunto perché può essere un buon punto di partenza per crescere.